Io e l'Onorevole Pagano abbiamo voluto questa conferenza stampa perché la candidatura di Antonio Zaffiri la riteniamo particolarmente prestigiosa. È stato già presidente della provincia di Pescara, sindaco di Collegorvino e rappresenta il collegamento tra Forza Italia e le amministrazioni comunali. Quindi Antonio Zaffiri apre Forza Italia le liste civiche, il mondo dei piccoli centri, delle aree interne, produttive, al mondo degli amministratori e quindi per noi è un valore aggiunto. Una nuova sfida lo faccio con determinazione. Ringrazio Forza Italia, l'Onorevole Nazario Pagano e il Presidente Lorenzo Zaffiri per avermi voluto in squadra. Io sono onorato perché questo partito ha dei valori importanti. La scelta non è stata fatta a caso ma una scelta voluta e determinata dalla mia esperienza perché è un partito strutturato, un partito moderato e ha nel suo DNA proprio l'attenzione per i territori e risolvere i problemi dei territori. Poc'anzi il Presidente Zaffiri ha detto rappresenta il collante con le amministrazioni ma io direi che Forza Italia già ha rappresentato e rappresenta il collante tra la politica e il territorio. Lo posso dire perché con la mia esperienza a livello provinciale già ho potuto constatare questo.